37 anni di Coppa del Mondo a Bormio e gli accadimenti belli e brutti non finiscono mai di sorprendere, come oggi, seconda e ultima giornata dedicata al Super G. Prima vittoria sulla stelio del leader di World Cup, lo svizzero Marco Odermann, con 1'29-27. Ritiro dalle competizioni annunciato prima della gara dell'asso austriaco Matthias Mayer, che dice di aver perso il sacro fuoco. Delusione per il nostro Domme, sceso col pettorale 1 e uscito prima di metà gara. La pista di Bormio è sempre molto ma molto difficile, dice Odi. Devi scilare smart e fermo fino al limite. È stato perfetto. Italiani non quagliano. Migliore degli azzurri, Cristofine Roffer, 19esimo a 2,80. Ma era veramente una gara molto difficile, tutto ghiacciata e comunque segnata, quindi ci voleva tanto coraggio e tanta energia e tanta tecnica buona per poter scendere in un modo discreto. Ho cominciato la Coppa del Mondo sia con Matthias sia con Beat, quindi che adesso due così grandi si ritirano in così poco tempo. Certamente mi dispiace, mi fa anche vedere che la età è dei limiti e io che sono ancora un bel po' più vecchio, certamente non rimanerà nemmeno per me tanto tempo, però ci mancheranno. Ottimo secondo posto per il dominatore della libera di ieri, l'austriaco Vincent Krikmeier. Per il team oggi non è un bel giorno, dice il nostro leader, tre volte campione olimpico, si è ritirato, ha aiutato molti giovani e una grande perdita ci mancherà. Perfetta l'accoglienza di Casa Italia e l'assizionanza turistica. Due giornate con il pienone, pista Stelvio in grande spolvero e cosa dire di più, i ragazzi dell'Istituto Alberghiero fantastici, impeccabili, due giornate di festa per Bormio, per la nostra località e cosa dire, stiamo pian pianino avvicinandoci al 2026, il grande evento delle Olimpiadi e tutti gli anni si cerca di migliorare. Sono state due giornate estremamente positive, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di affluenza delle persone. Il tempo è stato dalla nostra, tutti gli atleti, gli addetti e gli organizzatori sono tutti contenti, quindi diciamo che terminiamo il 2022 nel migliore dei modi e ci auspichiamo nel 2023 di riuscire a farlo crescere ulteriormente e a coinvolgere sempre più persone. La squadra italiana fa le valigie con un po' di amaro in bocca in attesa che il cambio generazionale dia i suoi frutti. Devono avere il tempo necessario, è ovvio che si vorrebbe vincere da subito, ci sono grandissime aspettative. Da qui alle Olimpiadi penso che sia la cosa più importante, il risultato poi è un raggiungimento di un gradino alla volta, penso in previsione di quelli che saranno del 2026. Tutta esperienza che devono fare, soprattutto in discesa libera e super G, insomma i giovani devono imparare praticamente a memoria e conta tantissimo l'esperienza, quindi insomma credo che sia giusto lasciargli il tempo per crescere. Cala il sipario sulla Kermes che porta Bormio in cima al mondo, le ultime doverose parole sono di gratitudine. Sono molto soddisfatta di tutto lo staff, di tutto il paese, della comunità, dello staff operativo, soccorsi, siamo veramente una grande comunità che in occasione dei grandi eventi si unisce dal meglio di sé.